Note finali di Voglio vederti danzare, applausi, fan in festa, Battiato saluta e mentre si dirige verso il centro del palco si distrae e cade. Rottura del collo del femore e intervento d'urgenza al policlinico di Bari nella notte. Questo l'esito dell'operazione. Abbiamo posizionato tre viti, dai controlli radiografici la frattura è rimasta ben ridotta, si è compressa e quindi siamo abbastanza tranquilli. Ha visto che la sua anca si muove, risponde bene tutto quanto senza dolore, per cui penso che anche sotto quell'aspetto non ci saranno problemi. Quella del Petruzzelli era l'ultima tappa del tour Joe Paz Experimental Group, il progetto sperimentale che ha dato il nome al suo trentesimo album tra vecchio e nuovo repertorio. Il cantautore siciliano è stanco ed ha fretta di tornare a casa. Ho detto di avere un momento di pazienza perché addirittura avrebbe voluto andare via oggi pomeriggio per rimanere in albergo, ma ho detto che in queste situazioni è meglio non esagerare, aspettare 24 ore prima di mobilizzare il paziente. Domattina immagino, da quanto ci siamo detti, che ritornerà alla sua città per mezzo di un'ambulanza. Lui potrà riprendere la posizione retta al più presto con l'aiuto e con l'ausilio di due stampelle e nel giro di una ventina di giorni rendersi più autono.